Ed eccoci amici sportivi, buon pomeriggio, ben collegati dalla Vista Vision Stadium, 31esima giornata del campionato di eccellenza a Gironea, ci avviciniamo all'epilogo, altri 180 minuti, poi oltre alla Vucherese già spedita in Serie D ci saranno da decretare tutti coloro che entreranno a far parte della griglia playoff. C'è ancora tanto da dire, questa sarà una delle sfide decisive, ne abbiamo anche altre in contemporanea, Ponte Lambrese, Mugio Vermano oltre Pozo al Viatese, questa è una sfida delicatissima come quella di Pavia contro Sestese, Bisnova contro Virtus Minasco, buon divertimento con Clemilano Magenta, primo pallone per la formazione di casa. Doria, occhio alla corrente pederniana, Mammettirallaga ancora, Doria si accetta, può calciare col destro, che brivido, il primo della partita, Monzani l'ha seguita ma, insomma, abbiamo parlato pochi istanti fa della pericolosità di Doria. Abbiamo già cambiato zona di campo, con grande celerità il club, Minelli, avanza lui e si accentra, scambio ravvicinato, Rankovic, va col bacino rete, va col bacino rete, la sblocca subito lui, placabile, 1-0, immediato, il fulmine di Sisu Petar Rankovic. Ancora spazio per lui, Decio può cercare il cross da lì, tocco dentro, Mammetti, Monzani li dice di no, poi doppia chance, azione che non è ancora terminata, gara apertissima, Locati, di scavo, costa, prolunga, si ha perso l'attimo qui. Si appoggia bene, in qualche modo Natale, traversone, Rankovic, che chiede il calcio d'angolo, che però non arriva, si è inserito con grande tempestività il 10 del club. Suone subito per Neimi, ad allontanare il club come può, atterrato Marco, calcio di rigore, calcio di rigore per il Magenta, messo giù il numero 5 della formazione ospite, sarebbe da rivedere forse, due calci di rigore. Occhio qui, va a calciare Rete, la mette dentro Pedrocchi, che riapre i giochi, 1-1, freddato Monzani, settima, anzi ottava marcatura e campionato per lui, e poi un cuore da regalare alla tribuna che lo assiste, il stagione sportiva. E anche quest'anno c'è pure il coccodrillo, Rankovic ha un avversario in più, va col destro, centrale, Rimbu in due tempi ci arriva, cercato il piazzato Petar Rankovic, i due allenatori per regalarci tutto lo spettacolo possibile. Intanto il gioco è ripreso, crediamo siano gli stessi 22 nuovamente in campo, poi avremo qualche dettaglio in più grazie all'aiuto della regia. Averiana che può anche cercare la conclusione, riapre per Mammetti, Mammetti siamo già all'interno dell'area di rigore, Mammetti col destro, pallone altissimo. Si è rialzato nel frattempo Petar Rankovic, Monzani va a richiamare l'attenzione del direttore di gara. Pallone forse un po' troppo lungo per Locati, che prova ad inseguirlo, cerca di travolgere l'avversario, ci riesce, gran pallone, a giro, fuori di pochissimo. Ancora Rankovic, di mezzo esterno, Costa, in profondità, buona azione del club, girata di Locati. E pallone che termina fuori, tante dirette che Bevi vi garantisce, occhio al pallone, al primo per Cominetti che cerca l'uno contro uno con l'avversario, prova ad andare via. Ancora, Petrocchi non aggancia, Diucca tra due uomini, se la complica Mammetti la girata. Pallone alto, ha cercato il gol alla Cristiano Ronaldo, più o meno da quella posizione il calcio d'angolo. Marco allontana, pelle non può arrivarci, Benatti, ginocchio testa, poi travolge l'avversario Gatti, commettendo fallo, calcio e punizione per il Magenta. Non felicissimo Benatti, però deve stare anche un po' attento, è già munito. Altro cambio nel club, fuori, Lorenzo Costa, anzi, sì sì, Lorenzo Costa, dentro Carnevale. E intanto rosso per Marco, rosso per Marco, momento clou della partita. Ok da lì, anche molto decentrato, va Pedrocchi, direttamente in porta. Triplice fischio, game over dal Vista Vision, 1-1 tra Clem Milano e Magenta. Bellissima partita dall'alto, livello tecnico-tattico. Si salutano anche Mister Scavo e Lorenzi, è stato un bel match, siamo veramente divertiti. Appuntamento all'ultima, per l'ultima gara di campionato tra sette giorni. Un punticino che sta molto stretto al Magenta, meno al club, in attesa del triplice fischio. Anche dagli altri campi, grazie per averci seguito. Appuntamento con l'intervista nel post-gara e con le live a partire da domani sui canali Bepi. Buona serata.